bene ragazzi eccoci a un nuovo episodio di troiango strategy allora io li ho fatti salire a livello 11 e questi poveretti a livello 10 e adesso andiamo a farci questa battaglia che si prospetta molto figa sicuramente dovremmo appicciare quasi tutti povero grano ce lo vedo a me per me to give you a hearty embrace while s frost cuts me down from behind ha a shameful scheme befitting the cowards who abandoned our print are you mad we have a clue what s frost is scheming lies i'll listen to the slithering of snakes no further we've been swindled gustadolf meant to force this battle from the start damn it all e a quanto pare si ci è riuscito ash in the wind smoke from the village the house is burn what madness is this landroy you would set your own home a play and what would you have me do with it leave it for s frost to pillage and plunder the only thing those bastards will give me an arrow to the eye giustamente non ve li darò moriremo tutti di fame l'android no there must be another way there is no other way boy your treachery saw to that king regna it will not dici appicciano pure l'ora dici appicciano pure l'ora ok vediamo come ci dividono a gruppi quindi ci vogliono quei due maghi che riescono a fare acqua ok vediamo vediamo cosa mettono ah vedi sono consigliati questi ma io metterei pure questi eh questo di ghiaccio assolutamente allora facciamo così mettiamo questo e questo mettiamo ghiaccio e questa non lo so mettiamola e penso che vada bene allora vediamo se c'è la panoramica o niente all'esercito avversario montacarichi grazie lo sapevamo che dovevo andare là sopra ah ok quindi se stanno i nemici non possiamo siamo bloccati e sarebbe anche a vicenda e sarebbe anche a vicenda ah oi sono due spostati là da soli eh sì che stanno tutti qua ci sta eee eee cosa che mi fanno andare sopra perchè noi siamo in una posizione di svantaggio in quanto stiamo sotto quindi se a quelli sono arcieri andiamo proprio nel nel sederino ok ok noi ce ne andiamo a gambe tu sai come lo prendo movimento A ah no ok devo andare di qua come faccio a salire? ok 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 metto qua eeehm eeehm ho sceso che fa? ho sceso che fa? no secondo me conviene fare occultamento eeehm ecco che fa? eeeh ok 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 Sì. Try this! This battle is won! Come on then! Here goes! e la metto di cosi e insieme, poi vediamo dove vanno e non posso salire di qua, non ho capito ah quindi posso salire solo di là, grazie a cavolo allora facciamo così, effetto se baluardo qua non lo posso manco fare che palle ah ma posso salire qua sopra? no, allora salgo no, non posso salire ah quindi sono baricata sotto salgo sopra metto il baluardo, è lì che cura ah no, potevo mettermi a fianco mi sono bloccata sono una cretina sono una cretina sono una cretina Grazie a tutti. 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 e... e... ... 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 Oh no, non una pushover! Death from above! Oh no! I see a path to victory! You have nothing left! Over here! Now then, to work! Come on! Come on! This is bad! I can heal too! My face! We've been weakened! We've been weakened! We've been weakened! This is a good one! I'm losing a lot of them! We've been weakened! I have only weakened? Oh no! Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Now it's my turn Alla prossima 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 Non posso Alla prossima 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 E poi Alla prossima 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 Ma non Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Ah che ci sono quasi Alla prossima 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 E quindi Alla prossima 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 Andiamo a chiedere aiuto vediamo se ci danno qualche qualche personaggio forte no, decisamente no oh, allora ce l'abbiamo noi le due forci convergono sull'amore ora il linchpino del continente a l'estate il generale di Vlora guida la grande duchy di Esfrost da l'estate da l'estate Sorsley End of the saintly seven commande un'armi from the holy state of Hyzant from within the heart of this maelstrom one man strives to find the path that will see the house he serve safely through the storm Benedict Pascal steward of house walford wise in war and peace alike contemplates what to do next ma dovremmo sicuramente utilizzare quel meccanismo sicuro? ah, c'è la votazione release his fetters yes, your grace you look well my prince what are you doing here? I bring good tidings your execution and I have a request to make of you what? what have you not already taken from me? the good tidings did not end with the lease on life my prince what? however, I fear that without your assistance as your ambition driven you mad I'll hang before I see you wed hmm I fear you might say in the days ahead do remember that at first I attempted I fear if you, if you not want to amathe your brother you must have to sleep I would have to sleep with me ok ok so we're finished this first now Adesso c'è la votazione Io direi Di salvare e chiudere qui il filmato Poi La storia dei personaggi me la vedo per fatti miei Quindi è inutile che la registro E riprenderemo dalla votazione Se il video vi è piaciuto mettete un like Se volete vedere come continuare la storia Iscrivetevi al canale Ciao ciao